Musica Buonasera a tutti voi e buon inizio di settimana. Fiamme, questo pomeriggio a Catania all'interno di uno stabile adibito di elettrodomestici ad intervenire diverse squadre e dei vigili del fuoco. Vediamo. Nel primo pomeriggio di oggi è divampato un incendio all'interno di uno stabile ad un piano fuoriterra, Catania in via Cavallaro 44 nel rione Picanello. Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato l'intero edificio adibito a deposito di elettrodomestici e si è rapidamente propagato ad un terreno vicino, coinvolgendo anche un'autovettura che era parcheggiata nelle immediate vicinanze. I vigili del fuoco intervenuti subito dopo la chiamata giunta nella sala operativa del comando provinciale Etneo alle 14.40, sono arrivati sul posto con mezzi e squadre inviate dalla sede centrale e dai distaccamenti Sud e Dieci Reale. Sul posto anche l'autoscala. La densa colonna di fumo è rimasta visibile da diverse zone della città. Sul posto sono intervenuti anche la polizia di Stato e a scopo precauzionale anche il personale sanitario del 118 con un'ambulanza, ma per fortuna non è stato necessario nessun intervento, infatti nessuno è rimasto ferito o intossicato dal fumo. I pompieri hanno dovuto lavorare per circa due ore per spegnere le fiamme e bonificare tutto, riportando le condizioni di sicurezza. Le fiamme hanno distrutto gran parte del materiale che era presente all'interno dei locali. Sono in corso, come detto, gli accertamenti per cercare di capire le cause che hanno fatto a sprigionare le fiamme. Controlli dei carabinieri tra Santa Maria di Licodì e Paternò. Nel primo centro, all'interno di un bar, è stata trovata una sala giochi abusiva, mentre a Paternò l'attenzione dei militari si è concentrata prevalentemente nei luoghi della Movida. Allora, sentiamo i risultati di questa azione di controllo. I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodì e il personale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nei giorni scorsi hanno effettuato dei controlli ispettivi in un bar sito nella centrale via Vittorio Emanuele, scoprendo la gestione illegale di un'attività di gioco. Il gestore della sala giochi, privo di licenza, aveva installato una vera e propria centrale di gioco d'azzardo. Durante l'ispezione sono stati rinvenuti accesi e funzionanti due slot prive di nulla host e di collegamento alla rete telematica dell'Agenzia, un videogioco senza vincite in denaro non identificato e sei personal computer utilizzati per i giochi da casino. Tutte le apparecchiature sono state sequestrate amministrativamente, compreso l'importo di 910 euro in monete trovate all'interno dei videogiochi, quali proventi degli incassi delle giocate. varie le sanzioni combinate al gestore del bar per un totale di 144.000 euro, che qualora non pagati entro 60 giorni potranno salire sino a 459.000 euro. E i carabinieri della compagnia di Paternò, al termine di un servizio coordinato eseguito nella serata di ieri nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani, in particolare Via del Progresso e Via delle Rose a Paternò, finalizzato al controllo della Movida e delle aree urbane, hanno segnalato alla prefettura quali assuntori 9 giovani paternesi, trovati in possesso di 16 dosi per complessivi 22 g di marijuana, hanno effettuato controlli preventivi presso due esercizi commerciali, hanno contestato 26 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, sottoposto a sequestro due motoveicoli, poiché i conducenti minorenni controllati in Via del Progresso non avevano mai conseguito la patente di guida e decurtato complessivamente 62 punti alle patenti di guida. Durante il servizio di controllo in totale sono state identificate 84 persone e controllati 67 veicoli. Il GIP del Tribunale di Caltagirone ha convalidato oggi l'arresto di Vincenzo Buscemi, il 24enne che lo scorso 20 ottobre ha ucciso a colpi di arma da fuoco lo zio al culmine di una lite. Il GIP ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Si è svolta nella mattinata di oggi presso il Tribunale di Caltagirone l'udienza di convalida dell'arresto di Vincenzo Buscemi, 24 anni, l'uomo che nei giorni scorsi a palagonia ha ucciso lo zio Giuseppe Buscemi, di 43. Il GIP Giuseppe Tigano ha convalidato l'arresto disponendo per il giovane i domiciliari. Nel corso dell'udienza illegale dell'uomo, l'avvocato Vincenza Perracchio ha specificato che il suo assistito ha agito per legittima difesa. Il tutto è partito da una lite. I giovani comunque ha risposto a tutte le domande del GIP. Vincenzo Buscemi ha ricostruito ciò che è avvenuto la sera del litigio. Ci sarebbe stata una condanna per stalking alla base infatti della diatriba che ha portato poi all'uccisione del 43enne. Quest'ultimo era stato condannato a due anni e otto mesi per atti persecutori nei confronti della ex moglie. La sera della sparatoria si trovava a casa del fratello, il padre di Vincenzo, quando, arrabbiato per la condanna, avrebbe estratto una pistola e il nipote, temendo per la sua famiglia, l'avrebbe disarmato colpendolo mortalmente. Da quando appurato Giuseppe Buscemi è tornato a casa nervoso. Il nipote lo avrebbe infatti invitato a calmarsi, parole che avrebbero ulteriormente innervosito l'uomo appunto tale da armarsi e puntare una pistola, una calibro 7,65, contro il nipote. Questo avrebbe reagito scagliandosi contro lo zio e ne sarebbe scaturita una colluttazione. Due colpi che alla fine si sono rivelati fatali per Giuseppe Buscemi. I militari dell'arma giunti su posto a seguito di una chiamata fatta alla centrale operativa da parte del personale del 118 hanno trovato il cadavere dell'uomo rivesto a terra con l'arma del delitto a proprio fianco e con accanto altri familiari. I carabinieri hanno avviato subito le indagini sentendo tutti i presenti al momento della sparatoria. Vincenzo Buscemi quindi è accusato di omicidio doloso. Intanto, mercoledì 26 ottobre, sarà eseguito l'autopsia sul corpo della vittima. Incidente stradale questa mattina in via Nazerosauro a Paternò una donna che era a bordo di una Fiat Punto e rimasta ferita a causa dell'impatto avuto presumibilmente con un'altra automobile che si sarebbe poi allontanata. Una versione questa da verificare. Sul posto sono giunti due ambulanze, una del 118 e un'altra di eccedenza per soccorrere l'arma non capitata e trasportarla al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Un gruppo di tifosi del Catania Calcio ieri al termine del match Paternò-Catania ha bloccato un tratto della statale 121 per rendere omaggio ad Andrea La Spina, il 35enne tifoso del Catania morto per un incidente stradale lo scorso agosto. Il traffico veicolare ha subito pesanti rallentamenti. Caos ieri pomeriggio sulla strada statale 121 tra Paternò e Belpasso per un numeroso gruppo di tifosi del Catania Calcio che ha voluto rendere omaggio con fiori, applausi e udurla da stadio ad Andrea La Spina, il 35enne tifoso del Catania, rimasto vittima nell'incidente stradale proprio sulla statale 121 lo scorso agosto, mentre rientrava a casa dopo aver assistito agli allenamenti della squadra del Catania nel campo sportivo di Ragalna. Ieri pomeriggio al Falcone Borsellino di Paternò si è disputato l'incontro di campionato di Serie D Paternò-Catania finito 4-0 per gli ospiti. I tifosi al rientro hanno voluto omaggiare come detto Andrea La Spina, bloccando di fatto il transito veicolare per quella che è stata una iniziativa non autorizzata. In tantissimi scesi dalle loro auto si sono recati nel punto esatto in cui il 35enne è deceduto lo scorso agosto, come detto, per rendergli omaggio con fiori, urla e fumogeni. Il transito veicolare, per via della presenza di tanta gente in strada, è rimasto inevitabilmente bloccato. Sul posto sono poi giunti i carabinieri della radiomobile della compagnia di Paternò allertati da qualcuno, ma al loro arrivo i tifosi stavano già cominciando a defluire, liberando la strada. Via Libera, l'acquisto di due defibrillatori salvavita a San Domenico di Ligoddia. Il Comune ha infatti accolto il progetto della misericordia. I due strumenti verranno posizionati in posti strategici a beneficio della collettività per situazioni di emergenza. Vediamo. Due defibrillatori semi-automatici da posizionare in luoghi strategici del territorio comunale di Santa Maria di Ligoddia. È l'iniziativa che sta per diventare realtà grazie all'impegno di spesa deliberato dall'Aggiunta Municipale mediante il progetto Ti aiuto col cuore, presentato dalla misericordia di Santa Maria di Ligoddia nell'ambito delle proposte del bilancio partecipativo 2021, cioè quelle risorse del bilancio comunale destinate ogni anno alle iniziative presentate da associazioni, gruppi, movimenti o semplici cittadini, proposta che la misericordia, come sottolineano gli stessi volontari, aveva già avanzato nel 2020, ma era stata bocciata. In questo modo i due defibrillatori verranno acquistati dal Comune per poi essere collocati in postazioni fruibili della cittadinanza in caso di emergenza. Qualunque cittadino formato alle manovre di rianimazione cardiopolmonare potrà trovare a portata di mano 24 ore su 24 questi strumenti salvavita che fanno la differenza nelle azioni di soccorso di eventuali arresti cardiaci. Il nostro progetto diventa realtà, spiega il governatore della misericordia di Santa Maria di Licoddia, Daniele Furnari. Le nostre priorità, come negli ultimi 36 anni di servizio, sono ancora focalizzate sulla sicurezza e la salute dei nostri cittadini, per i quali ci impegniamo incessantemente. Oggi la nostra idea trova accoglimento, seppur in modo ridotto, e in questo modo Santa Maria di Licoddia potrà cominciare a definirsi cardioprotetta e sicura, conclude così Furnari. Ancora, casi di inciviltà a Biancavilla in merito all'abbandono di rifiuti in ogni dove da parte di incivili incuranti del rispetto dell'ambiente, della cosa pubblica, ma anche di luoghi della cultura. Tante le segnalazioni giunte nella nostra redazione. Vediamo. Storie di zozzonerie, degrado e sporcizia continuano ad essere perpetrati dagli incivili di turno. Siamo a Biancavilla e in redazione sono diverse le segnalazioni che giungono quotidianamente. Queste immagini si riferiscono al passaggio degli zozzoni davanti il teatro comunale La Fenice, rifiuti di alimenti consumati lasciati nelle scale della struttura che dovrebbe rappresentare la cultura di una comunità. Evidentemente così non è per chi si rende soprattutto responsabile di tali scempi. Buste, lattine, bottiglie e cartacce per non parlare anche delle solite macchie di olio presenti nella pietra lavica in bella mostra senza alcun ritegno. Altra segnalazione riguarda la presenza di un paraurti di un'automobile abbandonato in strada da giorni e che non viene rimosso da nessuno. Siamo sempre a Biancavilla tra via Abruzzi e via Etnea. Il cittadino che ci ha contattato ha raccontato di aver parlato con un operatore ecologico e la risposta sarebbe stata mi dispiace noi non possiamo toglierlo. A questo punto a chi bisogna rivolgersi si chiede il cittadino e intanto il paraurti resta lì in strada. Un'altra segnalazione giunge da parte di un'altra cittadina in via Dusmet nella parte alta. Un cumulo di rifiuti e idili lasciati da qualcuno sul ciglio della strada da mesi è presente lì sul posto senza che nessuno lo toglie. Purtroppo di casi di questi la città ne è piena senza risparmiare neanche piazze e parchi pubblici. L'inciviltà di pochi e il mancato controllo del territorio produce questo. Raduno di Ferrari ieri mattina a Biancavilla per una manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale un evento che ha avuto anche un carattere sociale. Vediamo le immagini. Biancavilla Ruggente è il nome della manifestazione che si è svolta in una bella domenica mattina di sole in piazza Roma e che ha attirato tantissima gente appassionata di motori ma non solo in mostra tante bellissime ferrare rosse il Cavallino marchio d'eccellenza automobilistica italiana il Made in Italy tra i più famosi al mondo. L'evento è stato organizzato dall'amministrazione comunale madrina della manifestazione la Miss Venere dell'Etna 2022. Cellulari e macchine fotografiche in mano hanno tutti voluto immortalare le supercar presenti in piazza. La manifestazione ha avuto anche una valenza sociale coinvolgendo persone con varie disabilità grazie alla collaborazione delle associazioni Lotus e Insieme i ragazzi meno fortunati hanno avuto la possibilità di essere ospitate a bordo delle mitiche Ferrari per un giro cittadino. Un momento di vera gioia per loro per un evento che certo non capita tutti i giorni. Questa iniziativa è nata un po' per caso io un grande amico del signor Nicotra mi ha proposto questa bellissima iniziativa di portare queste Ferrari Bianca Villa che poi rappresentano un po' un marchio di eccellenza del nostro Made in Italy da lì la proposta verso l'amministrazione comunale che è subito accolto positivamente con questa manifestazione Bianca Villa ancora una volta si dimostra protagonista nella realizzazione di grandi eventi io ci tengo in particolar modo a ringraziare l'amministrazione il sindaco Antonio Buonanno per aver accolto e realizzato questa iniziativa ci tengo a ringraziare il signor Nicota per la sua disponibilità perché poi è stato anche un po' il cuore pulsante di questa organizzazione e ringrazio soprattutto anche tutti i partecipanti del club Scuderia Ferrari perché come ben sapete hanno accolto positivamente la richiesta di fare un giro a bordo delle loro super auto ai ragazzi disabili delle associazioni Hollus insieme quindi per noi e per oggi per Bianca Villa è una bellissima festa siamo molto contenti e soddisfatti di questo risultato tanta come detto la partecipazione di coloro che hanno messo a disposizione della giornata la propria Ferrari provenienti da ogni parte della Sicilia se tu non hai passione non puoi fare queste cose perché praticamente se uno anche quando ha tanti soldi e non ha la cultura non ha praticamente come si dice che deve essere amatore di questo rosso di questa macchina così prestigiosa possono essere tante macchine però Ferrari è sempre sulla cresta dell'onda il macchio Ferrari è praticamente un simbolo mondiale è una macchina che è fuori da tutte le altre macchine possono essere Lamborghini belle macchine Bucati però Ferrari è sempre in primo luogo questa è la bellezza delle Ferrari io penso che saranno un 30 Ferrari da Siracusa Catania Mascaluccia Pedara Tre Castagne insomma tutto nell'interlande qua catanese e ringraziando il Dio abbiamo avuto una bella giornata e ringraziamo il sindaco di questa possibilità che ci ha dato di poter compiere questa giornata così in felicità e in buona compagnia questo raduno è stato già inizialmente programmato da me fare fare un giro ai disabili perché è una cosa bella per dare una bella giornata a questi ragazzi e che gioia sono la gioia della vita dei loro genitori sono orgogliosa innanzitutto che il sindaco ci ha ospitato e ha dato questa possibilità di fare questo bellissimo raduno e siamo tutti qua tutti qua coloro che condividiamo questa passione passeremo insieme giornata bella con i disabili soprattutto per fare loro una giornata felice le Ferrari hanno effettuato un paio di giri per le vie della città attirando l'attenzione dei cittadini per quella che è stata una manifestazione ben organizzata e riuscita è una bella domenica in appendice alle nostre festività patronali e Biancavilla ospita una manifestazione importante assolutamente prestigiosa decine e decine di Ferrari sono oggi qui che hanno chiamato a un pubblico anche molto partecipato fatto non solo di ragazzi di giovani di famiglie e questo grazie diciamo a una proposta che è arrivata dalla famiglia Nicotra che l'amministrazione ha voluto prendere in considerazione diciamo oggi è stata una bella giornata abbiamo chiesto anche ai ferraristi di rendere partecipe anche i disabili della nostra comunità e quindi davvero oggi è una giornata comunitaria con famiglie sportivi appassionati che hanno reso davvero questa giornata fantastica ed è tutto grazie per averci seguito a voi tutti l'auguro di una buona e serena serata grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sovrapposti